Quando sono diventato sindaco era stato posto sotto sequestro, oggi posso dare una notizia tanto attesa. Il porto turistico di Francavilla verrà completato. Antonio Luciani in una conferenza stampa affollatissima dall'annuncio dell'avvio dell'opera. Ovviamente ci sarà bisogno di un cronoprogramma di lavori che penso si stimi intorno all'anno solare, quindi l'obiettivo sarà avere l'approdo pronto per l'estate 2017. Lo dico con grande soddisfazione perché era uno di quei problemi, ora lo posso confessare, che pensavo di non riuscire a risolvere, invece grazie al governatore Luciano D'Alfonso e grazie a una grande attività svolta dai tecnici, dagli uffici, da tutti, siamo riusciti anche a risolvere questo problema. Cosa era mancato fino ad oggi per poter proseguire e concludere i lavori? Intanto il finanziamento che è arrivato dalla Regione per 2 milioni e mezzo di euro, direi che è la cosa principale, e dopo soprattutto anche una sistemazione di una pratica amministrativa che ahimè era partita nel peggiore dei modi e quindi è servito fare molto, compreso riottenere la valutazione di impatto ambientale che la stessa Regione ci ha rilasciato con l'apposito comitato pochi mesi fa, un paio di mesi fa. È il governatore d'Abruzzo a dire che Francavilla dimostra di essere il comune d'Abruzzo più diligente, merito di un sindaco che ha fatto dell'avvocatura la sua filosofia di gestione. Ma quest'opera è un'opera che ha seguito una procedura da comune eccellente, è stato il primo comune a concludere gli obblighi giuridicamente vincolanti. Un'altra opera importante sarà quella del pontile, ha parlato anche di quello? Sì, io mi faccio carico di trovare le risorse per rigenerare il pontile, che è un'opera che deve parlare e deve introdurre al parco più grande d'Abruzzo che è il mare Adriatico.